Che messaggio possiamo dare al di là dei luoghi comuni ai giovani del sud? C'è speranza anche al sud o la speranza ormai è svanita? Guai a noi, se perdessimo anche questo è inutile parlare. Facendo anche un raffronto tra Basilicata e Calabria, due regioni limitrofe, una piccola e un'altra molto grande, se ogni anno per motivi diversi, giovani, per motivi di studio, per motivi di lavoro, vanno via, noi ne perdiamo 1500 all'anno, anche chi va fuori per studiare non ritorna. Significa che c'è un impoverimento, perché non c'è sul territorio la possibilità di creare quelle condizioni che permettono di investire. Il lavoro che stiamo facendo noi, anche come Chiesa, io personalmente posso dire che ho avviato un'esperienza di andare a trovare gli universitari, che sono stato nell'Università di Milano, all'Università di Roma, all'Università di Bari, incontro ai giovani, dove cerchiamo di lavorare insieme e di ragionare per vedere di ritornare in Basilicata, perché le nostre migliori forze non devono andare fuori, devono restare qui. Noi abbiamo bisogno dei giovani, però giustamente i giovani mi dicono, vengo lì, cosa faccio? Allora io ho lanciato un'idea, anche a livello regionale, di ritrovarci attorno a un tavolo di idee, dove facendo cadere steccati, divisioni, partiti, eccetera, proprio perché vogliamo il bene di una regione, il bene di un Sud, allora dobbiamo guardare in questa prospettiva insieme. Allora la nascita delle cooperative, per esempio, è molto interessante, già iniziata diversi anni fa, soprattutto qui da noi il progetto Policor, subvenzionato dalla CEI, ha portato alla nascita di diverse cooperative. Allora sono segnali, piccoli segnali, e questi segnali che sono germi di speranza che noi dobbiamo far crescere, e dobbiamo continuare su questa lì. La Chiesa fa la sua parte, le istituzioni devono fare la loro, ma dobbiamo collaborare e lavorare insieme. La Chiesa fa la sua parte, la Chiesa fa la sua parte, la Chiesa fa la sua parte, e la Chiesa fa la sua parte.